perché allora buongiorno quanta gente la mia voce non è al massimo quindi cercate di fare un po' silenzio se potete visto che siamo qua allora oggi facciamo delle esercizazioni sono semplici direi al di là dei conti che si fanno che poi non sono un gran che cerchiamo insieme di capire dove stanno i trabocchetti perché poi è quello l'esame di segnali in realtà non è difficile perché si tratta di fare un paio di integrali la difficoltà non sta quindi nel fatto in sé cioè la correlazione la convoluzione qualche trasformata non è per far retorica ma in realtà è semplice semplicissimo potrebbe essere addirittura una specie di complementi di matematica poco di più il problema è evitare di sbagliare le stupidagini sbagliare i limiti di integrazione perché è lì che si sbaglia no? cioè alla fine i compiti si sbagliano per stupidaggini che però fanno sbagliare allora cerchiamo insieme io cercherò per quanto posso al di là dell'esercizio in sé di far capire dove stanno i bachi perché è lì il problema e purtroppo tutti gli anni è così quindi sono semplici banali però cerchiamo di capire cosa fare come fare e cercare di evitare gli sbagli perché è tutto lì allora il primo tutti gli anni facciamo gli stessi perché tanto non è che quando uno piuttosto che un altro cambi le cose il problema ripeto è l'attacco il tipo di attacco quindi la prima cosa facciamo un'autopodellazione ne faremo qualcuna ma facciamoli bene il segnale sia questo allora prima di buttarsi a fare i conti uno deve no riflettere un attimo cos'è che mi stanno chiedendo apro una parentesi molto spesso i compiti sono sbagliati perché l'allievo non ha capito cosa gli viene chiesto o non ha capito o non ha sufficientemente rimettuto su cosa gli viene chiesto quindi direi spessissimo quindi guardate un po' cosa vogliono questi qua vogliono l'autocorrelazione allora vediamo come è fatta me la ricordo x t più tau per x complesso con un dato di t in di t vogliono questo non è che vogliono un'altra cosa vogliono questo benissimo poi siccome il segnale è reale questo non serve oh che bello ok dopodiché a questo punto vediamo come fare il segnale disegniamo il segnale per bene vediamoci qualche minuto non succede nulla dunque una rect vale a quanto è come è stesa la rect per vedere quanto è stesa la rect si guarda il denominatore semplice quindi questo è t se questo è t va da meno t mezzi t grande mezzi a t mezzi ok semplice attenzione essendo un'autocorrelazione dovrà avvenire una funzione pari in tau vero? e quindi il risultato di tutta la barca dovremo verificare che è pari in tau cioè in fin dei conti non è una funzione di tau ma è una funzione di modulo di tau perché se cambio tau in meno tau il fatto di spostare a destra o a sinistra se stesse e fare l'integrale non può cambiare no il fatto che lo sposti a destra viene da una cosa il fatto che lo sposti a sinistra cosa cambia? niente quindi numericamente deve venire la stessa cosa se non mi viene la stessa cosa ho sbagliato ecco quanto ho perso per questo? un minuto? due? ma è una assicurazione contro gli sbagli a questo punto si fa altra cosa quanti sono i tau possibili? quali e quanti? anche qua normalmente si sbaglia allora se cominciamo a dire tau maggiore di zero o tau minore di zero li faremo tutti e due dei casi vanno fatti tutti e due poi verificheremo che cambiando tau in meno tau dopo il risultato non deve cambiare numericamente dopo cominciamo a dire tau maggiore di zero perché bisogna dividere tau maggiore di zero dal tau minore di zero perché per tau maggiore di zero si sposta la funzione verso sinistra per tau maggiore di zero si sposta la funzione verso destra è chiaro essendo un'autocorrelazione non cambia nulla ma se fosse invece un'intercorrelazione cambierebbe come? quindi cominciamo a dire tau maggiore di zero cosa succede? succede che io devo fare moltiplicare fra loro la funzione spostata di tau verso sinistra ok? benissimo la devo moltiplicare e la devo integrare quindi farò l'integrale delle parti che si sovrappongono ecco io aspetterà sempre un'integrale diverso da zero ma è chiaro che se comincio a spostare 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 quando tau spostando mi ha fatto arrivare l'estremo della funzione a destra me l'ha fatto arrivare dall'altra parte cioè quando mi ha spostato in questo punto di lì in poi chiaramente l'integrale è zero quindi ci sarà un tau maggiore di chi grande per cui cxx è nulla conviene farlo subito se ve raccorgete perché poi dopo nel mare dei conti quindi nell'ambito dei tau maggiore di zero sicuramente se t se tau è maggiore di t grande è nulla vediamo se c'è qualcosa di simile ma ovviamente sì perché abbiamo detto la funzione è pari se prendo tau minore di zero invece devo fare l'opposto lo faccio qua cioè io sposto la funzione di tau a destra in modulo in modulo l'asposto perché in realtà in valore quindi in modulo l'asposto a destra è chiaro che quando al solito l'asposto l'asposto e faccio il mio bravo integrale poi lo farò ovviamente ma intanto capiamo no? se ovviamente il tau in modulo in modulo supera di grande è chiaro da lì in poi l'integrale sarà nulla giusto? quindi quando tau è minore di meno di grande al solito e quindi tau è maggiore meno tau è maggiore di t insomma ci siamo capiti e cxx è nullo ok? quindi prima ancora di fare l'integrale di fare le cose scopriremo che se tau questo è tau perché la funzione viene funzione di tau qualche bello spirito anche qui è facile sbagliare cioè non si capisce che la funzione quello che trovate è funzione di tau non di t quindi sicuramente per tau maggiore di t grande è zero e per tau minore di meno t grande è zero e su questo non ci piove ok? ok poi il massimo dove ce l'ha una delle proprietà della funzione di autocorrelazione è che il massimo sta per tau uguale a zero quindi noi ci dovremo trovare il massimo qua se lo trovate da un'altra parte avete sbagliato e ovviamente la funzione verrà pari abbiamo perso altri due o tre minuti? sì però iniziamo a capire a questo punto facciamo entrambi i conti cioè per tau maggiore di zero e per tau minore di zero e verificheremo dopo quindi dovete fare i conti non dire semplicemente non calcolo l'altro perché tanto è questo no si fanno i conti poi si verifica perché questo è un esame di conti forse è un'altra cosa eh a questo punto facciamo i conti cominciamo per tau maggiore di zero cosa vuol dire? abbiamo visto la funzione viene spostata a destra a finistra quindi l'integrale di che? attenzione i limiti di integrazione eh anche qui sui limiti di integrazione ci sono gli errori gli errori sono questi no? l'importazione allora l'integrazione è se io la sposto in qua si va da meno t mezzi t grande mezzi però a cosa? se tau fosse zero arriverebbe a t grandi mezzi siccome tau è la sposta a sinistra a t mezzi meno tau ok? chiaro? faccio il prodotto delle due funzioni chiaramente il prodotto delle due funzioni è semplicemente a quadrato in ditti giusto? fatto fatto fare quell'integrale banale perché a quadrato è una costante e la porto di fuori dopodiché c'è l'integrale di una costante chiaramente è semplicemente t meno tau banale quindi per tau maggiore di zero quando tau è uguale a zero quindi è a quadrato per t poi scende linearmente fino ad arrivare a essere nullo e poi nullo rimane perché diventa zero cosa succede per t minore di zero? vediamolo un po' questa volta la funzione è spostata a destra quindi si parte da meno t mezzi meno tau tau è minore di zero quindi in realtà questa è una quantità che è meno negativa vero? quindi ci sta spostando siamo qua a t mezzi allora se tau è negativo si scusate dovevo mettere la parentesi meno t mezzi più tau a t mezzi al solito di a quadrato in t il risultato è come prima t più tau e al solito eccolo qua questa era semplice ovviamente che c'è verifichiamo che la funzione è pari verifichiamo che il massimo è in tau uguale a 0 fra parentesi la funzione per tau uguale a 0 ci dà l'energia vero? quindi cxx di 0 è l'energia allora cosa si fa? si prende il risultato per esempio per tau maggiore di 0 è venuto fuori vero? per tau maggiore di 0 metto tau uguale a 0 il risultato è quadrato per T grande questo discorso di calcolare l'energia per tau uguale a 0 va bene se la funzione quello che abbiamo calcolato comprende anche tau uguale a 0 supponiamo che voi state non so per esempio facendo dei conti no? e quindi c'è questo prestateci attenzione un attimo non è facilissimo però allora supponete che state facendo dei conti avete trovato in questa zona che la funzione ha un certo andamento e qui c'è una certa f di tau per la vostra funzione di autocorrelazione poi per tau che va da questo punto a questo trovate un'altra funzione e ancora la funzione di autocorrelazione poi magari ne trovate un'altra che è sempre la funzione di autocorrelazione e ovviamente è pari dall'altra parte mi seguite? è importante allora sul libro avete trovato da qualche parte questa formula vero? che c xx di 0 è uguale all'energia allora cosa fa uno studente tu due? dice se gli si chiede calcolare l'energia quindi la seconda domanda calcolare l'energia lui dice allora l'energia è mi hanno detto che è la funzione di autocorrelazione per tau uguale a 0 quindi è uguale a f di 0 ah già ma c'è anche gt oppure è uguale a g di 0 oppure è anche uguale a h di 0 ovviamente trova tre numeri diversi ma la cosa non lo turba non vediamo sapeste quante volte questo errore viene fatto e dove sta l'errore? è vero che è per c la funzione di autocorrelazione calcolata in 0 ma deve essere calcolata in un intervallo dove la funzione comprende lo 0 quindi calcolarla per f di 0 è corretto perché f di 0 è definita in un intervallo che è compreso dove il tau è compreso calcolarla per g non è corretto è un errore gravissimo perché poi calcolate mettete come valore del parametro 0 in una funzione g di tau che non è definita per tau uguale a 0 allora questo errore è normale tranquillo sereno allora ok la cosa buffa è che di fronte a tre valori dell'energia diversi non ci sia così turbamento è come se gli dicesse quanto è il mio stipendio non so 1000 euro oppure 500 oppure 350 cos'è? un po' o tutte e tre insieme l'energia è un valore perdonatemi vi sembrerà sciocco ma vi assicuro che è un errore diffusissimo ok? quindi questo è corretto fare questo però va fatto per quel pezzo di funzione per cui tau è definito uguale a 0 esiste cioè è l'estremo oppure sta comunque dentro l'intervallo ok? abbiamo trovato quindi per finire che per tau maggiore di quindi per tau da 0 a di grande è uguale a quadrato di meno tau per tau da 0 a meno di mezzo scusate è uguale no è uguale a quadrato di più tau ok? la potreste scriverla tranquillamente modulo di tau compreso fra 0 e più grande a quadrato il meno modulo di tau se riuscite a metterla così avete fatto due cose belle primo avete fatto capire all'esaminatore o comunque a quello che indegnamente vi sta guardando il compito che avete capito che è pari e quindi non è solo funzione di tau ma funzione del modulo di tau non solo avete verificato che quello che avete trovato è corretto quindi diciamo siete anche tranquilli da questo punto di vista ok? perché alla fine nell'autocorrelazione è una funzione di modulo di tau se non la mettete in questa forma non muore nessuno però se lo fate è chiaro che no magari guadagnate qualche puntino per risolvere qualche errore da qualche altra parte fa piacere non succede niente se non lo fate ma dimostrate da aver capito ok? bene grazie a tutti grazie a tutti allora questo è semplice questo è semplice semplicissimo ma ripeto la facilità o la difficoltà dei conti è relativo l'importante scusatemi se sono noioso è sempre capire cosa ci stanno chiedendo allora la prima allora l'energia potrebbe essere un'altra cosa non è importante vediamo un po' come è fatta in questo caso l'unica cosa veramente che serve è capire cosa mi stanno chiedendo allora a mezzi 1 più il coseno di quella roba lì come è fatta questa cosa vabbè a mezzi ora lasciamo perdere il momento a mezzi nel senso che poi è una costante quindi per t uguale a 0 per t uguale a 0 il coseno vale 1 quindi 1 più 1 fa 2 che non è insomma una cosa difficilissima però dopodiché il coseno diventa poi va a 0 e dov'è che va a 0 il coseno quando 2 più greco t su t grande è uguale a più greco mezzi vero? quindi il nostro coseno va a 0 per t uguale a t quarti e ovviamente anche a meno t quarti essendo il coseno una funzione pari a poi il coseno continua a scendere e è utile fare e va a 0 quando va a 0 quando l'argomento uguale di greco uguale t mezzi t grande mezzi meno t grande mezzi e poi ricalirebbe vero? oh in realtà in realtà poi il tutto va moltiplicato per a mezzi quindi 2 per a mezzi quindi il risultato è che vale a poi vale la metà e poi lì fa benissimo disegnata questa si va a vedere ma moltiplicata per il recto di t su t grande la recto di t su t grande si estende da meno t mezzi a t mezzi benissimo quindi la nostra funzione è questa ok? fatta e già siamo un punto avanti benissimo a questo punto si tratta di applicare la definizione cosa devo fare? dovrei fare il modulo quadro ma siccome non si parla di numeri complessi basta fare il quadrato quindi devo fare a quadrato quadri l'integrale da meno t mezzi a t mezzi t a quadrato quarti 1 più coseno di 2 di greco t su t grande a quadrato in dt e non ci metto la rect vero? perché l'avete già messa nei limiti di integrazione eh? non muore nessuno se ce la mettete vero? però è sinonimo di sciatteria mentale sinonimo di non muore nessuno nessuno vi leva nemmeno un centesimo di punto però non è bello no? non è ordinato non è carino l'avete già messo nel limite dell'integrazione perché lo dovete rimettere allora si mette si mette si mette fuori dall'integrale tutto quello che si può fare subito e senza intugio si svolge il quadrato poi non ci si mette subito a fare l'integrale vero? mai mai si cerca di capire cosa ci abbiamo davanti perché a volte non serve fare l'integrale intanto c'è un coseno quadro l'integrale dei coseno quadri è sempre antipatico vero? bisogna cercare di spezzarlo in un coseno normale allora uno dovrebbe ricordarsi com'è la formula del coseno quadro se non se la ricorda piuttosto che chiedere quant'è il coseno quadro che il vostro amico sta nelle stesse situazioni vostre non è che è più bravo mediamente dico per cui magari vi dice anche una frescaccia quando poi si trova la stessa frescaccia su due compiti allora dice ma io non mi ricordo cos'è il coseno quadro allora io vi dico velocemente ma il coseno quadro di teta fosse uguale boh scrivo il coseno di teta con le formule di ulero ok? e poi faccio il quadrato vediamo un po' cosa viene fuori viene fuori 4 elevato a 2i teta più elevato meno 2i teta più il doppio prodotto che è uguale a 2i allora se lo vedete se metto un mezzo davanti a tutto questo cos'è? allora questo è il coseno di 2teta vero? mentre quest'altro è 2 diviso 2 è 1 quindi in realtà a parte un mezzo questa cosa qua sbagliato è uguale a un mezzo più un mezzo nel coseno di 4pi greco t su t grande ok? bene a questo punto mi metto a fare l'integrale? no vediamo un po' è una funzione periodica c'è il rischio che lo capisca allora questo è l'integrale del coseno vedete che ha periodo t fra t in mezzi e meno t in mezzi e cosa vuol dire questo? vuol dire che è l'integrale di questa roba qui cioè di un coseno che ha periodo t sul mezzo periodo davanti cioè sul mezzo periodo a sinistra e sul mezzo periodo a destra quanto è il risultato di quell'integrale? 0 allora lo studente modello scrive questo contributo è nullo e ci scrive perché perché se scrive il contributo è nullo e non ci scrive il perché non ha fatto l'integrale chiaro? al solito l'importante è saperlo che lo sto dicendo cioè tutto qui è una scuola di ingegneria quindi si presume che uno sa il perché delle cose poi deve fare l'integrale di questo questo è l'integrale di un coseno il cui periodo è t mezzi quindi addirittura riesce a fare un periodo a sinistra un periodo a destra in meno t grande t grande il contributo di quel pezzo quindi è 0 perché è l'integrale del coseno su due periodi e quindi al solito scriverà la stessa cosa come vedete non ho ancora fatto l'integrale il risultato è che invece di tutta quella roba che credevo che ci fosse c'è uno più un mezzo che notoriamente fa tre mezzi quindi ci siamo ricondotti a quadrato quarti sull'integrale di t mezzi questo punto si fa a questo punto si per forza quadrato quarti tre mezzi lo porto fuori e da meno t mezzi alti mezzi integrale in t questa roba è ovviamente t e quindi abbiamo se non ho fatto errori di calcolo spero di ok ok che dice se vi foste messi a fare gli integrali se vi foste messi a fare gli integrali la probabilità che il puntato sarebbe venuto errato sarebbe stata alta non per per cattiva stima nei vostri confronti ma perché è chiaro comincia a fare i segni i coseri l'integrale i segni le cose fare un errore diventa più facile diceva Ford vi ricordate Ford fu fece il modello T che fu la prima automobile a grande diffusione e lui si opponeva ferocemente a mettere nelle macchine più cose di quelle che fossero strettamente necessarie e diceva sempre che tutto quello che non c'è nella sua macchina non si può rompere molto saggio vero? invece il concetto di affidabilità era ignoro di fatto l'affidabilità nasce dopo la seconda guerra mondiale ma dopo non prima nemmeno Durante nasce presto a poco quando nasce la legge di Marse allora questo che diciamo adesso è un classico degli esercizi dei compiti vediamo un po' calcolare la potenza di questo io capisco che sia giusto scambiarvi opinioni perché no allora però sono tanti 2, 4, 6, 8, 10, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 sarete un 120 130 se anche fate ognuno calcoliamo calcoliamo la potenza di questo segnale ok al solito la cosa fondamentale è capire di cosa stiamo parlando quindi disegnare il segnale perché poi una volta disegnato è capito è una stupidaggine allora è un'onda triangola vero? allora cominciamo la prima cosa disegniamo questo segnale vale a per t uguale a 0 quant'è l'estensione? se non vi ricordate esattamente come stanno le cose scrivetela così se la scrivete così capite che l'estensione di quel segnale è t mezzi e quindi ve lo troverete da meno t quarti di qua a t quarti di qua ok? perfetto e già siamo avanti però non dimentichiamoci che c'è la ripetizione spesso si dimentica anche questa è una cosa che si dimentica e uno comincia a calcolare la potenza di questo segnale è chiaro che è 0 quindi cosa significa che questo cosa vuol dire ripetizione a t che questo punto me lo ritrovo a t oppure a meno di grande e cosa t trovo? me li trovo a e così via ok? perché è importante fare questo? per capire se le successive repliche dei segnali si sovrappongono oppure no e questo è cruciale perché altrimenti sbaglio in maniera clamorosa in questo caso non si sovrappongono quindi cosa dovrò fare? mi ricordo che mi hanno insegnato che la potenza di un segnale periodico è l'energia non in generale non del segnale generatore ma di quello che sta qui dentro che in questo caso per nostra ventura coincide con il segnale generatore ma se ci fossero state delle repliche no di ritro di chiaro? in questo caso siamo fortunati non ci sono sovrapposizioni mi basta calcolare l'energia cosa devo calcolare? l'energia di questo colpo vero? passiamo? bene intanto riconosco che è pari quindi sicuramente sarà due volte l'energia o calcolata per la parte a sinistra se nel caso si incrociavano dopo facciamo il caso che si incrociano si va bene e allora dica dica non si poteva togliere il valore rms e poi calcolare l'energia e poi fare tipo un managgio del genere lo vediamo è meglio rispondo vedendolo che è più saggio allora conviene calcolare mezza e poi fare il doppio è uguale facendo di fare ci mancherebbe allora questo segnale tra meno t quadri e zero è una retta quindi è un segnale del tipo mt più mi ricordo che è una retta bene devo trovare q e t allora per t uguale zero vale a quindi q è uguale a per t uguale meno t quarti vale vale zero quindi zero uguale m meno per meno t quarti uguale a quindi m uguale 4a diviso t grande ok m uguale 4a diviso quindi il risultato della nostra funzione della nostra cosa y il segnale è uguale a 4a t più a zero a 1 più t u4 t grande anzi vediamolo meglio abbiamo perso 30 secondi però adesso sappiamo benissimo com'è fatto si fa così non c'è un altro modo o meglio ci sono anche però si rischia di sbagliare si fa la retta per due punti non mi venite a dire non è un esame di geometria non sono tenuto a sapere la retta per due punti perché rischiate di farmi arrabbiare io che non non mi arrabbio mai insomma è difficile però poi insomma oh ecco chiaro a questo punto devo calcolare un metà energia ma il 2 lo metto subito perché se no me ne scordo no quindi da meno t quarti a zero t a quadrato 1 più 4 t divino t grande al quadrato in t vero? cosa cosa faccio? porto subito quello che devo portare fuori fuori e poi mi metto subito a fare l'integrale no no cerco di capire se posso perché se faccio questa cosa al quadrato vengono fuori tre termini mi ricordo che Ford diceva che tutto quello che non c'è nella macchina lo posso far diventare un termine solo? eh basta porre questa roba uguale a x fare un cambio di variabile allora a questo punto questo viene 2 a quadrato è l'integrale di s quadrato è chiaro che se x lo pongo uguale a 1 più 4t diviso t grande devo fare due cose però primo il differenziale 4 di t su t grande uguale di x e ho messo a posto il differenziale come l'ho messo a posto al posto di t ci metto questa roba qua quindi x t diviso 4 ho finito? no devo mettere a posto anche gli estremi di integrazione eh allora quando 1 più 4t diviso t grande è tale che t è uguale a meno 4 su meno t diviso 4 quant'è x lo metto dentro se ho dei problemi e vedo che è zero e vedo che è zero quindi nel col vecchio limite di integrazione il nuovo limite diventa zero e quando t vale zero la x quanto vale? questo non c'è più vale 1 vale 1 non avete idea degli errori che si fanno a questo punto a questo punto perché vale 1 non ho capito bene bene quando t uguale a 0 quando t uguale a 0 ah si si giusto bene a questo punto porto fuori tutto quello che posso l'integrale è venuto un pochino più semplice vero? a questo punto lo faccio però la primitiva è il cubo terzi da calcolare fra 1 e 0 il risultato la calcolo in 1 e viene un terzo la calcolo in 0 e viene 0 e il risultato è un terzo ho finito no perché questa è l'energia la devo dividere per il periodo per trovare la potenza e questa finalmente è la potenza se non la dividete per il tempo avete sbagliato avete sbagliato per due coppie in due modi uno diciamo accettabile uno meno l'accettabile è che vi siete dimenticati di dividere per il tempo questo potrebbe essere una svista il fatto è che voi avreste sostenuto che una potenza è acqua una potenza è acquadrato per il tempo mentre una potenza è un'energia diviso un tempo quindi il tempo non c'è restare può capitare degli errori chiaro? allora la domanda era ma può capitare degli errori e lo so ma perdete punto è come il medico che dice vabbè invece della penicillina l'ho dato alla calfora e le boccettine si somigliavano pensate sempre a questo sì sì è giusto diciamo complichiamo leggermente la nostra situazione e vogliamo trovare sempre la potenza ma di questo un po' di silenzio non dico tanto allora vediamo un po' cosa avete davanti adesso è molto simile ma in realtà scopriremo che è molto diverso è sempre una triangola c'è sempre una repetition ma come vedremo la situazione è abbastanza diversa e vediamo sempre disegnare il segnale perdeteci tempo tanto avete tanto tempo non sono i 5 minuti che va bene è una triangola quindi vale vale a per t uguale 0 e com'è al solito scrivetela sempre in maniera che sia evidente la sua estensione è 3 mezzi di grande quindi avete 3 quarti da una parte meno 3 quarti dall'altra portatevi un righellino una squadretta non perché qualcuno vuole che facciate dei disegni eccezionali ma serve per voi per capire quindi ma c'è la repetition ovvero dove sta l'altra l'altra sta questo punto quello ce l'avete qua ma che grande questo è un caso è un classico nei compiti succede spesso succede spesso allora non lasciatevi prendere dal panico e guardate serenamente la cosa io devo vedere quello che succede fra meno t mezzi e t mezzi vero? calcolare l'energia qui dentro e poi dividere per t allora vediamo cosa succede da meno t mezzi a t mezzi ecco qua se ho disegnato bene le cose per quello dicevo portatevi un righello e una squadra non perché dovete fare chissà quali cose bellissime ma così vi rendete conto allora vedete che qui c'è una bella sovrapposizione e la sovrapposizione è da qua comincia più quarti quindi il vostro segnale è fatto come o prendete la parte intanto è simmetrico quindi o prendiate il semiperiodo positivo guidate il semiperiodo negativo purché vi ricordate che c'è un 2 uguale guardiamolo in faccia fino a t quarti non c'è sovrapposizione poi c'è sovrapposizione e cosa succede? attenzione non dovete calcolare un bel niente perché questo scende con una pendenza questo sale con la stessa pendenza essendo perfettamente simmetrico e quindi secondo il noto detto toscano poggio e bua fa un barca pari ve lo ripeto poggio e bua fa un barca pari che significa che se uno scende uno sale quindi rimane costante poggio e bua la scina in toscana non si mette poggio e bua fa la barca pari nel senso che tutto fa bua chiaro com'è la cosa? quindi quello che dovete calcolare voi è l'energia di questo segnale che vale a quadrato per 2 e 0 quanto vale qua? questo lo dovremo calcolare e poi rimane costante fino a t mezzi la moltiplicerete per 2 dividirete per il tempo eccetera eccetera ci siamo? dov'è il problema se una retta scende con un certo coefficiente angolare e l'altra retta sale con lo stesso coefficiente angolare il risultato della somma è chiaramente costante chiaro? a questo punto il problema è determinare i singoli pezzi con calma intanto com'è fatta quella retta? una retta che parte da qui e arriva qua eh? al solito x non uguale a x più q perfetto quanto vale q? basta mettere t uguale 0 e andare a vedere a n quanto vale m? bene quando t è 3 quarti e 3 quarti t grande è uguale a 0 quindi m è uguale a meno 4 a diviso 3 t morale della favola la posta retta è x uguale meno 4 a 3 di grande per t più a ovvero un po' meglio a per 1 meno 4 t su 3 di grande così abbiamo raccolto la costante fuori e ci piace di più bene questo quando ci servirà ci servirà da 0 a t quarti quindi da 0 a t quarti dovremo avere a che fare con a 1 meno 4 t su 3 t grande e t quarti a t mezzi è una costante è una costante e siamo d'accordo e quanto varrà questa costante varrà quello che vale la funzione t trovata per t uguale t quarti perché da lì in poi non cambia quindi prendiamo il valore che assume la regione per t uguale t quarti ce lo calcoliamo 1 meno 4 t quarti su 3 t 1 meno un terzo fa due terzi e quindi abbiamo era proprio necessario fare tutti i conti oi ragazzi questa in 3 quarti di t va a 0 in un quarto fa un terzo del percorso quindi rimane due terzi di quello che c'era quindi voglio dire questa è geometria proprio spicciola ma spicciola spicciola cosa fa lo studente bravo prima di buttarsi a fare i conti va a vedere con righello se approssimativamente torna vero? perché fare sto conto può anche aver sbagliato ma se il disegnino è fatto ragionevolmente bene lo va a vedere torna più o meno no? se trova che è molto diverso dice ho sbagliato chiaro? bene facciamola allora cosa dobbiamo fare? poi moltiplicheremo poi moltiplicheremo tutto per due dovremmo fare l'energia di quel coso qui un pezzo sarà da 0 a t quarti di a quadrato 1 meno 4 t 3 t grande a quadrato di t più avremo 4 9 a quadrato dati quarti altri mezzi indissimi ok siamo allora il primo pezzo è facile vero? 4 noni a quadrato è l'integrale di una costante fra t quarti e t mezzi quindi t quarti ok? rimane l'altro pezzetto allora ce lo facciamo al solito non ci buttiamo subito intanto mettiamo a quadrato fuori che male non fa non ci buttiamo subito a fare l'integrale facciamo un cambiamento di variabile molto carino semplice poi allora consiglio non è che i cambiamenti di variabile sono sempre opportuni o desiderabili o preferibili il cambiamento di variabile è opportuno desiderabile e preferibile se vi comporta una semplificazione reale dei conti se questa semplificazione dei conti non c'è è inutile andare a cambiare la variabile cioè ve ne accorgete no? qui perché è carino? perché diventa il tutto l'integrale di squadra che è facile mentre questo è per cose no? al solito meno 4 di t su 3t grande uguale a dx lo vedete o non lo vedete che c'è un meno? se il meno se il meno ve lo scordate il piano l'integrale è un sbagliato quindi al posto di dt dovete mettere un meno dx 3t su 4 vero? poi dovete pensare agli estremi di integrazione quando mettete t uguale 0 la x quanto vale? 1 e quando mettete x uguale t quarti quanto vale? viene 1 meno 4 t quarti 3t grande si semplifica questo si semplifica questo 1 meno 1 terzo che fa 2 terzi vero? dopodiché lo studente dirigente cosa dice? c'è un meno nel nel fattore differenziale allora lo levo quel meno e inverto l'ordine di integrazione vero? cosa fa lo studente dirigente? quindi leva intanto porta porta fuori le costanti poi leva il meno vedete che l'ho levato il meno ma contestualmente cambio cambio l'ordine di integrazione se non fate questo è chiaro l'integrale mi viene col segno cambiato ho proprio il sommattante è un segno meno no segno meno è come se invece di darvi mille euro ve li chiedo no? non è uguale vero? ma manco un po' quindi è a questo punto è facile vero? è 3t a quadrato quarti per un terzo intanto l'un terzo lo posso portare fuori vero? tanto non mi da fastidio rimane 1 meno il cubo di due terzi 8 27 vero? per 3 9 per 3 26 morale 3 3 si semplifica dovrò portare chi ha quadrato quarti per 1 meno 26 27 meno 8 diviso 27 27 meno 8 fa 19 27 se non ho sbagliato ok? a questo punto non resta che sommare qui c'è 4 e 27 qui c'è 4 e 9 il minimo comune multiplo 27 per 4 qui c'è t a quadrato si può portare fuori 2 c'è fuori qui rimane 19 e qui rimane 12 se non ho sbagliato e quindi non è questo il problema 19 più 12 29 31 quello che è dopo di che ho finito devo dividere per ora al di là se c'è stato qualche errore può darsi la lavagna è complicato di là da una parte all'altra ma insomma non è quello che è tutto bene scratchy scratchy e vedete se qualcuno va allora ecco qua un altro quella è la funzione che abbiamo di cui dobbiamo cascolare la autocorrelazione e l'energia al solito cerchiamo di capire cosa si vuole da noi allora vedete ci sono due cose una è la funzione esponenziale la funzione esponenziale di per conto suo varrebbe 1 per t uguale a 0 e in realtà qui vale 4 perché il valore per t c'è un 4 a moltificare ed è fatta così vero? va a 0 per i t maggiore di 0 perché il coefficiente dell'argomento è negativo quindi è decrescente la funzione esponenziale è definita da me infinito a più infinito ammesso che l'infinito abbia un senso fisico però i matematici gli piace quindi è questa perché dico questo perché adesso siccome poi si moltiplica per il gradino unitario rimane sto pezzo ma se invece era che ne so u di t più 5 che quindi va qua eh il pezzo da considerare era tutto questo per qualche meccanismo mentale inferenziale no? inferenziale gli studenti sono portati a pensare che la funzione esponenziale è questa c'è niente da fare oppure se è crescente questa qua e qua poverina non c'è nulla perché? perché nella trasformata di Laplace non c'è qua c'è quasi sempre un u di t e quindi abbiamo dedotto inferenzialmente un ragionamento inferenziale io non sono un psicologo e quindi lo so vagamente è del tipo c'è una premessa delle che so delle conclusioni che non so esattamente leggo dei concetti che ho in maniera più o meno disordinata però arriva una conclusione se la conclusione è sbagliata siccome so che ho fatto un ragionamento non so quando l'ha fatto non so come l'ho fatto ma è quello lì è fatta quindi la funzione esponenziale è tutta chiaro? guardate io non lo dico perché mi piace di mettere il dito sulle piante perché un errore del genere è di una è di una frequenza patologica la funzione è quella allora per evitare guai cosa fate? cosa fa lo studente bravo? disegna la funzione esponenziale così com'è e poi la modifica dopo va bene comunque è fatta così ok? io voglio il fare l'autocorrelazione vediamo un po' come si fa mi ricordo mi ricordo che la funzione di autocorrelazione vediamo se io sto zitto allora mi ricordo che la funzione di autocorrelazione è fatta così ma lo dico nei vostri interessi io se ho la voce posso urlo ma oggi allora intanto questo complesso coniugato lo posso togliere perché grazie a Dio la funzione è reale ricordatevi sempre però che un minimo di riflessione che questo ho fatto di un secondo bene eccola benissimo allora io devo prendere allora cosa devo fare devo prendere il segnale eccolo là devo prenderne la sua traslazione come faccio per capire dove parte per capire dove mettere è nella traslazione lo 0 di prima diventerà il punto t più tau uguale a 0 vero? cioè il punto che prima era lo 0 del nostro sistema della nostra funzione è ora quello che annulla quindi il vostro 0 è per t uguale meno tau vero? quindi il punto che prima era 0 io lo trovo nella scissa temporale perché attenzione che l'integrale va fatto nel tempo lo trovo a meno tau meno tau è meno tau sia che tau sia maggiore di 0 sia che tau è minore di 0 meno tau è meno tau chiaro? meno tau se tau è maggiore di 0 me lo troverò a sinistra scusate è maggiore di 0 se tau è minore di 0 me lo troverò a destra ma sempre meno tau non è che questo è meno tau e questo è più tau so se è chiaro è meno tau basta chiaro? se questa funzione fosse stata t meno 5 chiaro? se fosse attenzione questo è vitale va bene? è vitale supponete poi continuiamo a fare quello che c'è anche perché dobbiamo seguire supponiamo che il vostro problema fosse stato quesito attenzione è vitale allora voi cosa avreste dovuto fare? intanto disegnare la vostra funzione esponenziale così com'è e quindi in questo punto quanto vale? 4 puoi far vedere che parte di qua quindi in questo punto la vostra funzione esponenziale quanto vale? vero? vero? quindi intanto è spostata per modo di dire nel punto 5 ma ivi vale 4 per e elevato alla meno 10 non come qualche bello spirito fa che la fa partire da 5 però vale sempre 4 chiaro? perché succede di questo chiaro? voi non avete idea sono su questi gli errori su questi poi è chiaro succedano errori di questo genere non non dite no perché tutto sommato dietro questo c'è una logica è meglio di quello tutto sommato ma per esempio scrivere semplificando il 5 col 5 succede vi prego non pensate che io goda nel dire queste cose o che ci provi qualche soddisfazione particolare ve lo dico perché magari uno dice no è come il prete quando fa la predica dice i peccati no mica è detto che è quello che sta lì perché lo dice a me no allora se questo partiva da 5 era u vero dt meno 5 quindi lo 0 era per t uguale 5 vero e quindi lo 0 della ut lo trovo per t uguale 5 quando io vado a fare t più tau meno 5 il punto di partenza dove va va per t uguale 5 meno tau cioè questo punto me lo trovo a 5 meno tau il che significa che se tau è maggiore di 0 me lo troverò a finistra se tau è minore di 0 me lo troverò a destra ma la scista è 5 meno tau no più è chiaro mi sto dicendo tutti i errori che capitano cioè basterebbe scriverli da una parte e voi fate il primo compito 30 al secondo 30 e finisce perché poi i conti sono parami i conti poi sono parami ci siamo? ci ho detto facciamo i nostri conti allora cominciamo tau maggiore di 0 ok? anzi diciamo pure maggiore o uguale a 0 com'è la geometria della cosa? una di queste funzioni eccola qua l'altra invece che è a 0 parte da 0 meno tau quindi parte da meno tau e sempre da meno tau ma come tau è maggiore di 0 quel punto ha una scista negativa quindi siamo in queste condizioni perché è importante stabilire i limiti di integrazione a questo punto è tutto facile a questo punto è tutto facile perché si tratta di fare l'integrale che è banale normalmente non è un problema quindi per tau maggiore di 0 abbiamo l'integrale fra 0 e l'infinito 4 elevato a meno 2 di più tau non occorre scrivere la u di tim in tau perché l'abbiamo implicitamente già considerata nel definire i limiti di integrazione per 4 elevato a meno 2t in dt e come vedete le funzioni sono 2 facciamo benissimo a questo punto il gioco è fatto facciamo l'integrale buttiamo fuori dall'integrale tutto quello che è possibile il 4 per 4 fa 16 e ce lo leviamo dalle scatole ci sarà elevato a meno 2 tau e ce lo leviamo dalle scatole e quindi ci avremo da 0 all'infinito elevato meno 2t meno 2t a meno 4t in dt ok questo è facile la primitiva è meno 4 elevato a meno 4t qualche bello spirito mette il t a dividere e semplifica ma oddio non sempre però no questo è ardito come semplice ma non non dispero se Dio mi dà la possibilità di lavorare un'altra decina d'anni può darsi che lo trovi attenzione questo è un errore grave è un errore frequente non questa ma mettere il t al denominatore è un errore relativamente frequente allora calcolato fra 0 e l'infinito si calcola l'infinito ci si sottrae il valore 0 viene un quarto no l'infinito vale 0 vale infinito scusate vale 0 a 0 vale 1 quindi un quarto che lo faccio quindi si semplifica il 16 con 4 questo si può fare e quindi il risultato 4 elevato almeno 2 tau diciamo adesso 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 bisogna fare per tau minore di 0 vediamo vediamo la geometria della cosa allora una è sempre così vero? una è sempre così l'altra la scissa è sempre meno tau non è cambiata è sempre meno tau chiaro? solo che essendo tau minore di 0 è a destra quindi questa volta l'integrale formalmente è scritto nello stesso modo formalmente è scritto nello stesso modo ma si va ok? formalmente è scritto nello stesso modo perché è sempre più tau però si va in questo modo qua cioè è scritto da meno tau al solito si porta fuori tutto quello che c'è da portare fuori siamo? uguale quindi 16 elevato a meno 2 tau la primitiva e cosa scopriamo? che all'infinito va sempre a 0 ma nel limite inferiore di integrazione vale elevato a 4 tau diviso 4 il tutto è uguale a 4 elevato a 2 tau per tau minore uguale quindi cambiando tau in meno tau il valore non cambia lo studente modello scriverà dimostrando di aver capito tutto poi mi chiedono l'energia ve lo ricordate? allora normalmente a questo punto lo studente si è dimenticato che gli si chiede anche l'energia e si dimentica di calcolarla è male non ha risposto a una delle due domande dice ma è una svista è al solito hai lasciato dentro il bisturi ma è una svista e lo so ma quello è morto no? come? allora per calcolare l'energia per calcolare l'energia devo rifare i conti no basta ricordarci che è per tau uguale a 0 quindi farà 4 attenzione lo posso fare? sì perché i due conti o questo o questo contemplano nell'intervallo di definizione il tau uguale a 0 quindi mi è concesso farlo se invece per qualche avventura il tau non fosse stato contemplato non potevo farlo chiaro? perché la funzione parte da qua perché parte da qua allora la domanda è perché cambiano i limiti di integrazione è chiaro che io devo fare i limiti quando il prodotto delle due funzioni è non nullo perché se è nullo è inutile nel primo caso era non nullo da 0 all'infinito che è sempre meno tau è mentre nel secondo caso essendo tau negativo questo punto è positivo e quindi i punti se funzioni sono reciprocamente non nulle da meno tau all'infinito grazie per la domanda siamo allora impostiamo semplicemente l'ultimo tanto voglio dire se volete lo portiamo anche in fondo però vediamo dove arriviamo dai dai impostiamo allora vediamo un po' calcoliamo calcoliamo la funzione di autocorrelazione e l'energia la prima cosa da fare è disegnarlo disegnarlo possibilmente bene ricordatevi un buon disegno senza esagerare non è piacevole per noi cioè nel senso che ma è soprattutto per voi allora cominciamo a disegnare allora intanto disegniamo la recte va da meno 2 a 2 vero? ok al di fuori è nulla quindi la funzione non c'è è nulla che lei non c'è non è definita z no anzi è definita z poi per t uguale a 0 vale 1 e poi come va? attenzione è una parabola vedete che sono parabole? vedete che sono parabole? questa è la sua è una parabola eh? una parabola con la concavità rivolta verso l'alto e fa così vero? no così vero? no no anche questo è un errore frequente non è importante disegnare male è che il disegno brutto vi può indurre poi in errore per quello dico fatelo bene la parabola è così scende e dove va a cadere dove incontra l'asse delle l'asse del tempo quando quando 1 meno t quadrato quarti uguale a 0 e questo lo distribui tranquillamente 4 meno t quadrato uguale a 0 e si può scrivere questo è un prodotto notevole 2 meno t per 2 più t però diviso 4 uguale a 0 quindi le radici di questa equazione sono proprio t uguale 2 e ti vuole meno 2 quindi ok non era mica detto che fosse così poteva anche arrivare qua quindi però in questo caso siamo stati fortunati ok ok allora impostiamo bene poi i conti sono sempre partiamo con allora intanto quando faccio l'autocorrelazione io prendo la funzione e lo sposto a destra a sinistra però se faccio tau maggiore di 0 il punto meno 2 dove va a finire a meno 2 meno tau ma anche se faccio tau minore di 0 va sempre a finire a meno 2 meno tau soltanto che il suo valore numerico cambia quindi questo punto va qua il suo valore è sempre meno tau meno 2 meno tau se faccio tau minore di 0 sarà sempre meno 2 meno tau non mi scrivete meno 2 più tau l'ho detto centomila volte oggi quindi questo va a finire qua ovviamente questo punto 2 va a finire a 2 meno tau sia che sia maggiore di 0 sia che sia minore di 0 il punto che prima stava qua va a finire a meno tau ok? è chiaro che io sposterò questa cosa finché c'è sovrapposizione sicuramente se tau supera 4 il punto che prima era qua è andato qua quindi il punto 2 meno tau va a finire a meno 2 e quindi per tau maggiore di 4 sovrapposizione non c'è quindi scriverò mentre cxx di tau identicamente 0 per tau maggiore di 4 vero? a questo ovviamente la stessa cosa succederà per i tau minore di 0 quindi quando lo spostamento è a destra a questo punto a questo punto è fatto quasi tutto perché si tratterà di mettere correttamente i limiti di integrazione e di scrivere correttamente le funzioni intanto dove sono i limiti di integrazione per tau maggiore di 0 lo spostamento della funzione verso sinistra quindi i punti buoni in cui le due funzioni sono entrambe diverse da 0 cominciano a 2 e finiscono a 2 meno tau a meno 2 scusate siamo? è chiaro che se sbagliate questo avete sbagliato il problema poi è inutile che fate tutto l'integrale capite il fatto che mi riempiate una pagina di un integrale ben fatto avendo sbagliato i limiti di integrazione è del tutto inutile vi posso dar quel mezzo punto per la buona volontà se in casa la mattina non ho litigato per dire ora sto scherzando ma capite sbagliando le premesse dopodiché scriveremo correttamente le cose ok e poi facciamo quell'integrale voglio dire a questo punto voglio dire anche perché il tempo è scaduto ma si tratta di fare un integrale un integrale di una funzione polinomiale ok ci si mette un quarto d'ora perché magari non è semplicissimo ma finisce lì per tau minore di zero è chiaro che l'argomento dell'integrale non cambia cambieranno i limiti di integrazione perché è vero che questo è sempre meno 2 meno tau però lo spostamento è a destra quindi scriverò meno 2 meno tau e scriverò 2 l'argomento dell'integrale è lo stesso chiaro? è tutto è tutto l'accordo che andate a decidirla con il 22 Grazie.